Le volevo chiedere rispetto al superamento della legge Fornero, all'estendere a tutti la flat tax e ad alzare le pensioni minime a 1000 euro, quali di queste promesse elettorali verranno centrate con la prossima legge di bilancio? Per quanto riguarda la domanda quali obiettivi saranno centrati, le posso garantire che questi non sono i 100 metri ma sono i 5000 metri, questo governo intende durare una giselatura, lei avrà visto i campionati mondiali di atleti che ci sono specializzati i 100 metri e quelli che fanno i 5000, se uno partisse a velocità dei 100 metri su 5000 non arriva in fondo, quindi le faremo tutti e tre, magari qualcosa di quelle tre sarà fatta già in questa legge di bilancio.